Così bello. Tutto quello che viene detto su questo palco ha sempre un peso maggiore, no? E voglio parlare di una cosa che purtroppo nel 2024 esiste ancora, grazie, che è la diseguaglianza, purtroppo. Una voce va a tutte quelle persone che vengono trattate in modo diverso sul lavoro per il luogo di provenienza o per il colore della propria pelle. Una voce va a tutte quelle persone che vengono maltrattate nelle carceri. Una voce va a tutte quelle persone che non hanno niente e si aggrappano alla vita lavorando in qualsiasi situazione senza sicurezza. Una voce va a tutte le donne che sono troppe, che ancora subiscono. Siamo tutti quanti uguali finché rimaniamo sotto lo stesso cielo e qualsiasi cosa facciamo Dio lo sa. Grazie a tutti. Viva l'Italia, viva Roma e viva la mia città che mi fa da madre e da padre, che è Napoli. Grazie a tutti. Ciao!